Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con gli speciali del Tg, gli effetti collaterali di questa emergenza coronavirus. Ne trattiamo ogni settimana uno diverso. Adesso parliamo dell'impatto sull'economia, sulle aziende, il decreto cura Italia che è partito ma in effetti non ha messo a disposizione ancora un bel niente delle aziende, una ripartenza, una fase 2 che scatterà domani, una fase 2 molto parziale, mi vedebbero a dire per fortuna parziale perché alcune aziende pur potendo riaprire probabilmente non avrebbero avuto i soldi per riaprire gli stabilimenti, per pagare i dipendenti, per sopravvivere e poi per potersi sviluppare e tornare a fare quello che facevano prima di questa maledetta emergenza. Lo facciamo come sempre con ospiti in collegamento e alcuni contributi che abbiamo realizzato. Vado subito a salutare a Milano il direttore del giornale Alessandro Sallusti. Buonasera direttore. Buonasera a Claudio Siciliotti e ad Alessandro Pleteroti che vedo inquadrati insieme. Buonasera, buonasera Claudio. Buonasera. Buonasera ad entrambi. Io vi farei ascoltare subito che cosa ha detto la Presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli. Non si può pensare di affrontare il tema economico e produttivo solo una volta risolto quello sanitario. Le due cose vanno affrontate in maniera parallela garantendo la sicurezza di tutti. Ogni settimana di chiusura in più pregiudica la futura ripresa delle attività produttive. Non credo di dire qualcosa di nuovo affermando che molte aziende purtroppo non ce la faranno a rialzarsi e abbiamo come la sensazione che la politica non abbia compreso appieno la gravità di questa emergenza economica. Noi continuiamo a far sentire la nostra voce, continuiamo a informare, a creare consapevolezza e a stimolare la nostra regione nel farsi sentire a livello nazionale. Quindi la salute delle persone al primo posto, lo ripeto, e per questo noi suggeriamo al Governo di superare la classifica dei codici a teco delle attività produttive, privilegiando invece un approccio fondato sulla sicurezza effettiva dei lavoratori. Il concetto è molto semplice. Apra chi è in grado di garantire la sicurezza indipendentemente da qualsiasi altra logica settoriale. Chi non è in grado si prende al tempo per strutturarsi e noi ovviamente gli daremo una mano a farlo. Oggi il fattore tempo è fondamentale. Anche nel decreto liquidità si parla di immediatezza, di liquidità immediata, ma sinceramente noi di immediato non ci vediamo proprio nulla. Oggi non è il tempo delle parole, oggi contano i fatti e i fatti dicono che è necessaria l'approvazione della Commissione Europea. Inoltre l'iter di ottenimento dei prestiti bancari non è cambiato. Solita burocrazia. Parliamo poi dei tempi di rimborso dei prestiti bancari. Sei anni non sono sostenibili, ma lo capiamo anche facendo un parallelismo con la crisi del 2008, dove non sono bastati dieci anni per riguadagnare gli stessi livelli di PIL. Come pensiamo in questo caso di farcela in soli sei anni? Parliamo anche di garanzie. Per le piccole imprese lo Stato garantisce i prestiti al 100%, ma sinceramente più che di piccole imprese si parla di micro imprese. Quindi tutte le altre per ottenere questo prestito in emergenza dovranno comunque attivare con le banche una valutazione del merito del credito e questo è un problema. Insomma noi non siamo d'accordo con quella che è la via scelta dal governo per uscire dall'emergenza, ovvero favorire l'indebitamento delle imprese. Questo è il pensiero di Anna Mareschi e Danieli che ricalca probabilmente il pensiero di tutti gli industriali, cioè le problematiche relative all'indebitamento, all'impossibilità di poter far fronte ai debiti in sei anni. Andrei subito da Alessandro Sallusti per chiedere, direttore una settimana fa, ci eravamo interrogati su questo, è passata una settimana, di liquidi ancora non si è visto assolutamente nulla. Dunque io ho fatto una battuta provocazione all'inizio dicendo forse è meglio così che la fase 2 vada a rilento perché alcune aziende non avrebbero avuto modo di poter riaprire e avrebbero magari dovuto rinunciare alla cassa integrazione per i loro dipendenti per rimetterli a lavorare senza avere soldi per pagarli. No ma guarda, l'intervento della Presidente delle Unioni Industriali della vostra regione non è un intervento televisivo, è un manifesto che andrebbe stampato e diffuso. Qui si stanno rampicando sui vetri, adesso hanno chiamato Colau, poi non so chi diavolo chiameranno, ma non si è ancora visto un euro. E la Presidente ha avuto il pudore di non dire un'altra cosa in aggiunta a quello che ha detto che mi sembra molto esaustivo, cioè le cose stanno esattamente così. Non ha detto che chi riapre rischia anche di andare in carcere, nel senso che Dio non voglia che si riapra un'azienda e qualcuno si ammala nell'azienda. Senza un patto sociale tra imprenditori, amministratori, politici e magistrati, riaprire sarà da una parte un calvario e dall'altra un rischio enorme. Un rischio enorme perché noi non siamo un Paese, non siamo mai stati un Paese. In assenza di un patto sociale, riaprire un'azienda significa rischiare non solo i soldi, come abbiamo appena sentito, ma rischiare anche di finire nei guai giudiziari e questo è assolutamente insopportabile. Andiamo subito da Alessandro Platerotti, Vice Direttore del Sole 24 Ore. Cominciamo ad affrontare questo tema dal punto di vista dei numeri, dal punto di vista più economico e finanziario, visto che sei Vice Direttore di Un Quotidiano che fa questo tutti i giorni. Allora, non si è visto ancora un centesimo. È passato una settimana da quando ne ho parlato con Salusti, ma ne abbiamo parlato anche con te, con Claudio Siciliotti, con tanti altri, già prima di una settimana fa. C'erano questi dubbi e queste perplessità confermati adesso? Diceva Salusti è assolutamente economico e finanziario, nel senso che la parte che sta dicendo lui sugli aspetti legali, credo che sia la questione strategica. Non sono d'accordo con lui solo su una cosa, è intollerabile, è la realtà in tutto il mondo. In tutto il mondo il problema è uguale per tutti gli imprenditori. In altri paesi, in America sono già scattate le class action, se lo volete sapere. Perché? Perché tutti i lavoratori, anzi i dipendenti delle carceri sono stati i primi a fare la class action contro gli stati. Perché? Perché qualunque posto di lavoro lavori col pubblico, un conto è una fabbrica, ma mettiamo chi lavora e esercizi. E se ha male il dipendente, è la legge. Allora, che cosa possiamo fare? Io ho suggerito ad esempio a un mio caro amico di farsi fare subito e firmare dei dipendenti che sono rimasti, delle liberatorie, delle manlevo. Cioè è stata una loro scelta non condizionata e non dettata dalla fame di tornare al lavoro, lui è un ristorante, adesso consegna le bistecche, per esempio non le fa più al suo ristorante. Allora, il problema esiste, non si risolve purtroppo, perché è legale, con un accordo vasto, ma è un aspetto giuridico che va affrontato seriamente e non è sicuramente solo nostro. L'altro punto importante, noi stiamo parlando dei soldi che arrivano adesso. In realtà, qui il problema vero su cui dovremmo discutere è quelli che serviranno dopo. Ricordiamoci che gli altri paesi forti, la Germania, discutevamo prima, il piano da 1.100 miliardi di euro solo per la Germania fa impressione, sono soprattutto per ricapitalizzazioni, cioè interventi patrimoniali. Loro avranno un'industria di Stato di qua a un anno, questo è evidente. Metà dell'economia lo sarà probabilmente per loro, c'è già la corsa a chiedere gli interventi, si fidano dello Stato. Allora, noi qui stiamo pensando agli interventi tampone, ai 600 euro che non sono arrivati o ai 1.300 per la cassa integrazione, quando, tra poco, quando si uscirà dalla crisi, avremo un sistema europeo ancora più asimmetrico e sbilanciato di prima, con aziende ben patrimonializzate, che non hanno pagato dividendi agli investitori perché l'aiuto di Stato implica il non pagamento di quelli, quindi ben solide dal punto di vista anche del credito, e quelle come le nostre che continuiamo a parte l'attesa dei sussidi, che è un problema che va oltre la mancanza di risorse, qui viene a galla la burocrazia, cioè da noi i soldi non arrivano perché lì si chiuda mezzo giorno, lì se non te lo danno prima. Questa è la monstruosità italiana, al di là della mancanza di risorse. Per quanto riguarda gli altri aspetti più, diciamo così, legati all'economia, attenzione perché arriviamo in questa crisi in una bolla finanziaria straordinaria, che non riguarda solo Wall Street, ma riguarda il sistema bancario europeo, quello chiamato più solido e più forte. Dicevamo prima, noi ci hanno accusato di essere troppo indebitati e di avere una cultura del debito, di non avere un'educazione finanziaria, questo hanno detto all'Eurogruppo, sul debito pubblico. Poi parliamo sempre noi del risparmio privato, quando invece non parliamo mai del debito privato delle famiglie, che è il più basso d'Europa. Noi abbiamo intorno al 55% di rapporto fra reddito disponibile e debito. Andiamo da Claudio Sicilotti per chiedergli subito un qualcosa rispetto a quello che ha detto Anna Mareschi Danieli, cioè quando ha parlato di micro imprese, quelle che in effetti avranno questa garanzia al 100%, quindi parliamo di imprese che poi chiederanno anche poco come finanziamento. Quindi lo Stato ha un po', come dire, messo in piedi uno specchietto per le allodule che andrà a beneficio di pochi. Allora, il primo commento su questo decreto liquidità, io mi sono trovato a scrivere un post su Facebook e ho scritto così, ti aiuto con i soldi tuoi per pagare le tasse, perché mi sembra che la filosofia dell'intero decreto sia io ti aiuto sì, ma con i tuoi soldi, quindi creando debito, alla fin fine per fare che cosa? Per pagare le tasse, che ho differito di qualche mese, ma non ho affatto sospeso. Se vogliamo, in una prima versione del decreto Cura Italia c'era anche irragionevoli, come dire, benefici a favore dell'amministrazione finanziaria, che spero che siano caduti per sempre. Ricordiamoci che si erano riservati due anni in più per fare gli accertamenti e l'avevano giustificato, perché vanno dette anche queste cose, per non stressare troppo i contribuenti con una pioggia di atti amministrativi quando finalmente questa crisi sarà avvenuta meno. Allora, in generale qui ci viene permesso di indebitarci, ma questo si poteva già fare prima, con una garanzia dello Stato, ma un po' di più di quello che c'era prima, ma c'era anche prima, e questi, come dicevamo prima, non sono aiuti, sono debiti. Al fronte di questo ci sono diversi ostacoli all'interno di questo decreto liquidità. Cioè c'è l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. E perché? Per quale motivo gravare anche di questo problema le aziende dando un potere al sindacato che forse ne ha già abbastanza? Io credo che uno dei grandi mali di questo Paese sia stato il triangolo delle relazioni socio-economiche. Grande Stato, grande impresa, grande sindacato. Chi era fuori da questo triangolo non contava niente. E ancora una volta rientrano queste cose. Si dà fino al 25% del fatturato indipendentemente dall'andamento aziendale. Attenzione, si rischia di finanziare aziende decotte, o che lo sono, quindi che non meritano questo tipo d'aiuto. E si rischia anche, pensiamolo dal lato delle banche, che io tutto sommato sono ben lieto di estinguere un credito che ho verso l'impresa e un debito per sostituirlo con un credito nazionalizzato dove la garanzia dello Stato è più alta. Quindi ci potrebbe anche prestare a furbizie. Poi, come diceva la Presidente Danieli, francamente affidare alla Sace, che ci mette già oggi tempi bilbilsi per processare domande, significa fa sì che questa liquidità non ci sia. Allora, quando si usano queste espressioni megagalattiche, dal bazooka al poderoso intervento mai visto, e si deve confrontare che nessuno ad oggi ha ricevuto nulla. Questa è la realtà. Qua si parla di 600 euro, schiazzavo con Alessandro Plateotti prima della trasmissione, 600 euro sono mezza giornata di incassi di una piccola pizzeria che costringiamo a star chiusa per due mesi e gli diamo 600 euro. Quello che ha detto riguardo alla Germania e rispetto a noi ci dà l'idea di come siamo. Ma neanche quelli sono arrivati. Neanche i 600 euro sono arrivati. Ma guarda, un'altra cosa che è bello raccontare, sul Sole 24 ore, lo dicevo prima, c'era l'articolo qualche giorno fa di un giornalista che ha la figlia a Berlino e preoccupandosi della figlia a Berlino dice ti devo mandare dei soldi. No papà, perché sul mio conto mi sono già stati accreditati 5.000 euro dallo Stato tedesco, forse se vuoi sono io per starli a te. Questa è la situazione di cui dobbiamo essere. Allora abbiamo già tirato in ballo la politica, allora io volevo farvi ascoltare pochi secondi di Zingaretti perché andando un po' a spulciare nelle varie dichiarazioni, Zingaretti ha detto un qualcosa che mi ha incuriosito, mi ha incuriosito se è un altro per come lo ha detto. Sentiamo Zingaretti. La sfida della ricostruzione dovrà basarsi su 4S, salute, soldi, sviluppo che significa sicurezza. Soldi, soldi. Noi dobbiamo mettere in tasca le persone che non ce la fanno la liquidità che gli permette di vivere e poi ovviamente sviluppo perché come dobbiamo uscire dal covid e quindi dal virus dovremo uscire dalla presumibile fase di crisi economica e produttiva nel quale verso il paese e quindi continuare con il sostegno alle imprese, investire nella ricerca, nei prodotti e nel ripensare un nostro modello di sviluppo fondato sulla sostenibilità ambientale e sociale. Salute, soldi, sviluppo che significa sicurezza. Salusti, allora le 4S di Zingaretti, così abbiamo messo anche il titolo su questa dichiarazione, i politici alla fine sono tutti concordi, bisogna trovare soldi, darli alle imprese e però alla fine il Partito Democratico, che è un partito che sostiene il governo, è in un governo che non riesce a fare questo. Io comincio a chiedermi anche se un altro governo avrebbe potuto fare qualcosa di diverso considerato la situazione drammatica dell'Italia, forse bisogna anche interrogarsi su questo ed essere un po' meno severi nei giudizi con quanto sta facendo l'attuale governo. Io aggiungerei una quinta S alle S di Zingaretti che è la S di stupidità, perché non dimentichiamoci che all'inizio di questa tragedia, quando la regione Lombardia diceva chiudiamo tutto perché qui è un casino infernale, i cinesi, la Roma, il coronavirus, i primi casi, Zingaretti venne a Milano e fece un aperativo pubblico bevendo il mojito a favore di telecamera insieme al sindaco di Milano Sala per dimostrare che era tutto un allarmismo e che la regione Lombardia erano dei razzisti perché dicevano attenzione ai cinesi. Quindi Zingaretti si dimentica la quinta S che è quella della stupidità, ma soprattutto noi siamo governati da gente, so che detto così sembra retorico, banale, però tante volte la banalità e la retorica hanno una verità intrinseca, cioè siamo governati da gente che non ha mai lavorato un giorno in vita loro e quindi non ha idea che come ho appena sentito il pizzaiolo non può aspettare altri due mesi per avere 600 euro, perché è morto, tecnicamente morto, non potrà mai riaprire. Allora il fatto di essere governati in una classe dirigente che non ha mai lavorato in questo momento è un grande problema, è un enorme problema e io penso che Colau sia un grande manager, ma qual è il problema? Che lui è a capo di Vodafone Europa e quindi lui al mattino si sveglia e dice io oggi voglio i telefonini arancione e alla sera lui ha i telefonini arancione perché chiunque della sua catena di comando non si adoperi per fare i telefonini arancione, entro sera è licenziato, è a casa. Ora quando metti questa gente che è abituata a essere il padrone della ferriera a capo di un'organizzazione che ha a che fare con lo Stato, io sono convinto, ma non è una critica a Colau, che Colau domani mattina dice facciamo così e domani sera non succede niente, assolutamente nulla, perché è gente che non ha mai avuto a che fare con lo Stato, non ha mai avuto a che fare con l'economia reale e quindi sono tutte cose in teoria bellissime, ma che non avranno nessun effetto. Un comitato di 20 professori, di 20 saggi, saranno anche saggi ragazzi, ma insisto il pizzaiolo che da un mese aspetta 600 euro e non li ha, ma chi se ne frega dei saggi, trovate il modo di dare 600 euro e questo non può farlo un professore della Bocconi, neanche un professore di Harvard, possono farlo degli amministratori o dei governanti che hanno un senso pratico, qui non è più questione di teorie, è questione di pratica, ogni giorno che passa ci sono migliaia di aziende che non possono più riaprire, questi sono lì che discutono tra 18 saggi, io trovo tutto questo molto bizzarro. Come si suol dire, il medico studia e il paziente muore. Platerotti, prima stavi dicendo qualcosa a seguito delle parole di Siciliotti, oppure se vuoi intervenire su questo, sulle quattro S di Zingaretti. Attenzione, fammi parlare. Il punto è un altro, io credo che la confusione peggiore sia proprio quella che si faccia quando si dice aveva ragione il comune, aveva ragione il presidente della regione, io di sanità non voglio sentire l'assessore, non voglio sentire nemmeno il governatore, l'inciviltà di quello che succede in Italia, è che ognuno dice quello che vuole e dopo di che si viene dopo a dire aveva ragione Tizio, aveva ragione Caio. Io l'altra volta stavo con Fontana in trasmissione, mentre si continuavano a parlare di queste benedette mascherine che si avevano fatto bene nella regione Lombardia. Mentre lui parlava, l'organizzazione mondiale della sanità diceva il contrario sulle mascherine. Allora, io di chi mi devo fidare? Di Fontana, che fa l'affocato, o dell'organizzazione mondiale della sanità? Tutto questo teatrino che stiamo mettendo in piedi intorno a chi ha ragione e chi ha sbagliato distrae, distrae, distrae soprattutto un'opinione pubblica che dovrebbe concentrarsi su altre cose, come per esempio, che cosa? Io ho un governo che non si sa da dove è saltato fuori, come abbiamo detto, ma ho un Parlamento di cui, mi vergogno, ricordiamoci di chi è la maggioranza parlamentare, di quelli che hanno provocato il disastro delle opere pubbliche. E allora che cosa stiamo dicendo? Il governo non sa governare, è il Parlamento. Che cos'è? Sa esprimere forse una maggioranza migliore? Non lo so se stanno all'opposizione e non al governo. E allora o si riandrà a votare e decideremo, cosa che mi auguro, quando sarà finita l'emergenza, o questo battibecco continuo, ha fatto bene i conti, ha fatto male. Penso che stia portando lontano la gente da una realtà. Non accorgersi di che cosa? Che c'è un grande lavarsi le mani di tutti i livelli intermedi, la burocrazia, il sindaco, ognuno delega allo Stato quelli che sono i suoi gruppi. Dopodiché salvo i riverni cambiati. Detto questo e concludo, sulla questione delle imprese per ricollegarci, io ripeto, qua, quello che non funziona in un paese che non ha già i soldi, è la macchina dell'amministrazione. E questa non dipende da chi governa e basta, dipende da tutti quelli che hanno governato l'Italia. Finora, io ho visto Berlino, Berlino non la Germania, il municipio, ha processato in due giorni 140 mila domande per i sussidi, era un fondo da un miliardo e tre fatto dal comune, per i lavoratori partai. Sono state le pratiche e i soldi sul conto in 24 ore. Allora, lì non è la Merkel, lì è Berlino, è un'amministrazione che funziona. Allora, cominciamo a pensare a questo, invece di andare a fare sempre, perché quella caratteristica italiana qual è? Non importa se il gatto, anzi, la logica dovrebbe essere se il gatto è bianco o nero, l'importante è che mangia il topo. No, qui guardiamo di chi è il gatto, il proprietario, prima di scegliere il gatto. Soltanto una cosa, di tutti questi importi, questi fondi che vengono messi a disposizione in Germania, tu hai citato Berlino, ma prima, ancora prima che iniziassimo la trasmissione si parlava di altre iniziative per le imprese, c'è qualcosa anche a fondo perduto in questi paesi e in altri paesi europei? Diceva Salusti che serve a noi a fondo perduto, ovvero i sussidi alla gente, farli mangiare, perché quello che è a fondo perduto è quello che deve essere a fondo perduto, perché altrimenti non si riparte. Quello che invece è il mondo del rapporto con le imprese, e qui faccio una precisazione importante perché è passata sotto silenzio ed è gravissimo, tutta questa storia della sospensione delle regole per i veri prestiti dalle banche è falsa, nel senso che le domande sono valide, fino al 31 giugno per avere i prestiti garantiti, ma allo stesso tempo l'EBA, l'ABC ha stabilito che la sospensione delle regole vale solo per i vecchi prestiti, non per quelli nuovi, tanto è vero che c'è la garanzia, se no non li davano. Dunque, chi accende un prestito, un mutuo, adesso è soggetto alle stesse caratteristiche di prima? Di prima? La banca la deve contabilizzare, come? Con i criteri che applicava un anno fa, perché tutta la banca che l'hanno fatto sulle banche le protegge dal vecchio debito, quello è protetto, ma quello nuovo non esiste, allora se come diceva giustamente pure San Lui, io domani ho un negozio, vado in una banca e chiedo un prestito, sono trattato come prima, le nuove linee sono tutte quelle per le stesse regole di prima, e questo è un altro assurdo. Claudio Siciliotti, allora ma tutto questo, quello che ha detto Platerotti e poi se vuoi ovviamente aggiungere anche del tuo, dipende dall'incapacità di chi mette su questi provvedimenti oppure da una strategia per dire un qualcosa in tv e poi farne un'altra pensando che la gente abbia l'anello al naso, come si suol dire, non capisca nulla, ma alla fine poi dibattiti nel nostro paese c'è qualcuno che si lamenta dei troppi talk show, ma ce ne sono tanti che aiutano anche a capire queste cose, speriamo di essere anche noi tra queste. Allora serenamente diciamoci la verità, noi viviamo una situazione eccezionale dai confini indefiniti rispetto alla quale convivere con l'incertezza credo sia normale e abituale. Che cosa c'è bisogno in una fase del genere? Io direi c'è bisogno di chiarezza e invece qui abbiamo una pioggia di decreti, di ordinanze, di circolari che interpretano le circolari del giorno prima, che è una cosa, cioè ognuno di questi decreti, sono 120 articoli, il maxiemendamento è un lenzuolo, c'è bisogno di immediatezza, prima il risultato e poi l'annuncio, qui invece si fanno le conferenze stampa alle 10 di sera, così i giornali del giorno dopo fanno i titoli su quello che si è detto e poi arriva il testo, che non è quello che è stato annunciato prima, c'è bisogno di effettività, quindi vuol dire bisogna avere soldi, bisogna che i soldi siano veri, posso citarvi i poveri professionisti che avevano finalmente i 600 euro dalle loro casse di previdenza e no, ti hanno schiaffato una norma sul decreto liquidità che contraddice quella precedente per cui se sei iscritto a un'altra cassa non li puoi avere, quindi i soldi che erano già pronti per essere liquidati per tutti i professionisti italiani sono stati fermati e permettetemi, in una situazione così grave ci vuole la capacità di confortare le persone e allora parlo una persona che, lo dico con sincerità, io non sono né credente né tantomeno monarchico, però forse mi sono ritrovato in questi giorni nei silenzi di una piazza San Pietro vuota con un santo padre che rappresentava la gravità del momento e nella regina Elisabetta che viva Dio in 70 anni parla quattro volte ma quelle volte che parla dice qualcosa che ti apre il cuore, no? E allora noi è inutile che facciamo annunci, ogni giorno c'è un annuncio diverso, c'è bisogno di parlare poco, poco e con la solennità che questo serve. Poi a Zingaretti direi insomma io non so se il tema sia la stupidità, la quinta S, voglio dire a Sallusti che neanche quelli di prima avevano lavorato mai, se vogliamo proprio dircela, cioè qua non ha mai lavorato nessuno di quelli che fa politica purtroppo, però una S importante che io aggiungerei senz'altro è quella della semplificazione, perché noi non possiamo fare norme come quelle che facciamo, i prestiti fino a 25 mila euro hanno un tasso, io vorrei leggervi come si calcola questo tasso, lo leggo testualmente, ciò qua la legge, il soggetto richiedente, recita l'articolo 13 del decreto liquidità, deve applicare al finanziamento garantito un tasso di interesse che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttore di gestione dell'operazione finanziaria e comunque non superiore al tasso di rendi stato con durata esido da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS e banche a 5 anni e il CDS Italia a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui l'articolo 1 commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016 numero 232 maggiorato dello 0,2 per cento. Abbiamo capito tutto. Adesso si possono fare norme... Dimmi che non è vero, dimmi che non è vero che stai scherzando. Cioè questa è una cosa veramente intollerabile, se non poniamo, io credo che dovremmo creare una task force per la qualità delle leggi, che le passa a setaccio, le scrive in un'altra maniera, come credo che dobbiamo passare, l'ho detto credo anche in questa trasmissione, dalla logica dell'autorizzazione alla logica del controllo. Noi autorizziamo, perché la logica dell'autorizzazione genera clientelismo e corruzione, invece la logica fai, le leggi sono queste, fai secondo le leggi, io ti vengo a controllare, se non hai rispettato le leggi ti sanziono. E se creiamo autorizzazioni su tutto è impossibile uscire poi. Noi, creiamo solo barriere. Allora, volevo chiedere sul tema di chi ha lavorato o meno nella politica. Salusti, chi è secondo lei, perché vedo, prima vedevo che non era d'accordo quando Sicilotti diceva neanche i precedenti avevano lavorato granché, chi è secondo lei che invece avrebbe potuto fare di meglio, avendo avuto l'esperienza anche sul campo nella gestione delle difficoltà. No, qualcuno ha lavorato, poi non li hanno fatti lavorare, però i governi dei professori hanno tutti fallito, in primi smonti, ma anche come dire, il professor Tremonti che è un amico mio, ma non è che è riuscito a fare chissà che cosa. C'era un vecchio detto che diceva se i professori in economia sapessero davvero come si fanno a fare i soldi li farebbero loro e non insegnerebbero agli altri, che mi sembra banale, però abbastanza efficace. Manca la concretezza. Io mi chiedo perché, e lo sappiamo per certo, perché tutti noi lo abbiamo scritto e raccontato, degli imprenditori italiani che hanno aziende in Germania e in Svizzera, in Germania e in Svizzera hanno già risolto i loro problemi, con una lettera in Svizzera, perché l'ho pubblicata e l'ho letta, di 14 righe, che dice, caro signore, lei secondo noi ha diritto ad avere un aiuto perché la sua attività è penalizzata, vada in banca e chieda un prestito garantito al 100%, 14 righe. In Germania ci sono imprenditori italiani che hanno le aziende aperte, io mi chiedo per quale incomprensibile motivo in Italia non è così. Io dico, ma perché se noi adesso siamo aperti, io sono in un giornale, abbiamo preso delle cautele, ci siamo organizzati e siamo sul mercato, voi siete una televisione, avete preso delle cautele, vi siete organizzati e siete sul mercato. in un accordo tra imprenditori e lavoratori. Nell'esempio in cui facevo sono giornalisti che tra l'altro sono dei lavoratori, A per modo di dire, e B molto ostici nelle loro pretese, eppure siamo aperti, siamo sul mercato. Allora perché un'azienda che gli imprenditori e i lavoratori raggiungono un accordo di buonsenso per cui possono stare sul mercato, non possono stare sul mercato per legge? Ma perché? Ma dove è scritto? Perché è una libreria sì e è un negozio di non so che diavolo no. La Presidente Mareschi Daniele, cioè superare la parte relativa alle categorie piuttosto di dire chi è in grado di lavorare... Ma chi è in grado è ovvio, ci sono delle aziende che non sono in grado perché la loro struttura produttiva non permette una situazione di sicurezza, ci sono aziende che non sono in grado perché la loro struttura economica non permette una sicurezza, ma ci sono tantissime aziende di qualsiasi ordine grado, di qualsiasi settore che potrebbero riaprire domani mattina. Il problema è di riaprire l'azienda in base ad accordi tra imprenditori e sindacati che sono gli unici titolati lavoratori, parlo, sindacati, gli unici in grado di capire se è possibile o no. Sai qual è l'unico problema? Sono i trasporti, perché per andare sul luogo del lavoro bisogna trasportarsi e nel caso dei trasporti pubblici, parlo delle grandi metropoli, non parlo di Udine, probabilmente non parlo di Trieste, però parlo di Milano, parlo di Roma, allora che l'ente pubblico si organizzi per garantire dei trasporti in massima sicurezza. Ma l'unico problema della riapertura delle aziende, sia pure a scartamento ridotto, sia pure con grande cautela, sono i trasporti, non è lo stare in azienda. Perché chi è quel lavoratore così cretino che accetta di stare in azienda? No, detto che c'è un tasso dello zero virgola di mascalzoni sia tra gli imprenditori che tra i lavoratori che accettano qualsiasi roba. Però insomma non ragioniamo sui mascalzoni, ragioniamo sulla gente seria. Chi è quel lavoratore che accetta di andare in azienda e rischiare? E chi è quell'imprenditore che accetta di mettere a rischio la vita dei suoi lavoratori e quindi della sua azienda? Perché se succede qualcosa. Quindi lasciamo meno Stato, lasciamo più libertà e che lo Stato invece di rompere i coglioni agli imprenditori si attrezzi a, che è il suo compito, a organizzare un sistema di trasporto tale da garantire la sicurezza durante il trasporto all'azienda e al ritorno a casa. Alessandro Plateroti, vengo a te su questo tema. Poi volevo anche aprire con te il tema Europa, perché tu hai tenuto molti dibattiti in questa settimana e anche nei giorni immediatamente dopo questo fantomatico accordo all'Eurogruppo. Allora, uno, io mi dispiace per Sardusti, ripeto, non è come la mette lui. Non basta, non esiste accordo sindacale che prevalga sulla legge. Se un lavoratore si ammala sul posto di lavoro, hai, sacro santo, diritto di essere l'esercito. Punto. I giornalisti, è un altro discorso, noi la viviamo come una vocazione anche, una passione, è un servizio. Siamo a questo tappo di plastica, è una passione. Se uno è un lavoratore. Perché se un giornalista si ammala è diverso da chi fa questo tappo qui? La nostra informare non è solo un lavoro per me, ma anche per te. Allora, noi la viviamo anche diversamente, con grande modestia lo dico. Però so bene che la realtà del mondo è diversa. So bene che quando un lavoratore si ammala, se ne è proprio, l'accordo sindacale vale zero e l'impresa, io lo dico per le imprese, non per i lavoratori, perché rischiano di essere sepolte sotto un mare di cause da chi si ammala. E, voglio dire, quando uno arriva il sindaco, ma perché non facciamo un fatto sociale? Cioè, convochiamo il sindaco, il capo degli imprenditori, il capo dei sindacati e il capo della procura. E facciamo un accordo sociale, perché se no non ripartiamo mai. Perché il rischio zero non lo avremo mai, affinché non trovano un vaccino. Sono d'accordo, il problema è la legge. Cioè, la legge è legge. Allora dobbiamo cercare, come dici tu, facciamo un bel tavolo e discutiamo di come creare una manleva per tutti i datori di lavoro che dicono, beh, volete venire a lavorare in fabbrica? Io le dotazioni di sicurezza ve le garantisco. Non posso garantire che un gradino si rompa, ricordiamoci che sappiamo gli incidenti sul lavoro, quello che sono. Ma questo non c'entra, però. Questo non c'entra. Se si rompe un gradino e uno casca, non c'entra nulla col Covid. Il gradino è responsabile dell'impresa di ripararlo davanti alla legge. In questo caso, di che cosa parliamo? Di un lavoratore che, magari è stato a casa, ha avuto la cassa di integrazione, si ammala. La moglie gli dice, fesso, ma tu fai di causa se l'hai preso lì. Cosa che sta già avvenendo. In America è già un diluvio, ma anche altrove, ve lo dico. Io lo sto seguendo personalmente. Allora, la tutela dell'impresa, va tutelata l'impresa. Da questo. È un rischio enorme. Allora, questo è un argomento. Per quanto riguarda quello che dicevi sull'Europa, è un disagio, cioè la cosa è saltato, quello che era il loro, la rete di protezione, ovvero anche l'onorabilità, dico io. Prima loro si nascondeva, c'era l'aspetto politico che era importante per tutti. Adesso stiamo parlando di onorabilità, perché, come vi dicevo, stiamo mistificando, stanno utilizzando molto, e io sono uno europeista considerato, il caso italiano del debito, per mascherare delle distorsioni create da sei anni, dal 2016, con quattro anni di tassi sotto zero, e liquidità per tutti. Ripeto, la crisi del 2008 è cominciata dall'immobiliare, non dalle banche, dal crack dell'immobiliare, più garantisco, e non temo di essere smentito, Danimarca, Olanda, Belgio e Autria sono sull'orlo del barco, e lo stanno nascondendo, giocando sul debito italiano. Allora, il nostro governo non sa leggere le tabelle, purtroppo, io me le sono fatte mandare al marzo 2020 della BCE, e mi garantisco che abbiamo il debito privato più solido d'Europa. Purtroppo abbiamo un debito pubblico più elevato, una spesa di interessi drammatica, ma la solidità del sistema, le imprese, ho guardato anche il livello medio di indebitamento bancario delle nostre imprese. Siamo sotto la media europea, cioè noi siamo sani come apparato privato, e allora ci fanno passare come un paese dove la cultura dei risparmi non esiste. È vero il contrario, e il governo sbaglia a non sapersi difendere, prima ancora che imporre le sue teorie. E allora mi viene in mente un qualcosa che Sicilotti ha detto in passato proprio in questa trasmissione, cioè sfruttare, perché non sfruttare questa ricchezza, queste immobilizzazioni private per far ripartire il paese, trovando lì quelle risorse per far ripartire l'economia. Non ho capito. Alessandro. Puoi che dica qualcosa? Sì, un attimo. Io dico sulle patrimoniali, questo paese non ha bisogno, non deve, non c'è logica di una patrimoniale. No, no, io non intendevo in senso di patrimoniale, ma un altro senso che Claudio adesso probabilmente ti illustrerà. No, no, un patrimoniale proprio non ci ho mai pensato. Mi leggo molto lontano, credo che qualsiasi idea in questa fase di nuove tasse, e mi riferisco a qualche idea balzana che in questi giorni è venuta fuori, balzana e anticostituzionale, perché tu non puoi crearmi tasse sullo stesso anno, no? Perché io ho iniziato l'anno con una visione, è una previsione di essere tassato in un modo, non è che mi puoi cambiare le regole durante l'anno. Quindi non penso affatto a nuove tasse, penso che il problema sia come far ripartire il paese, come recuperare i redditi perduti e sicuramente tassarli di più non è una via. Però, come diceva Alessandro, io credo che questo tesoro che è di 4.200 miliardi di ricchezza privata, di cui 1.300 miliardi sono soldi cash di cittadini italiani che stanno sui conti correnti, stanno sui conti correnti perché non ci si fida di investirli da un lato e si ha paura del futuro dall'altro. Per questo però sono lì e potrebbero ben essere utilizzati per un grande piano di rilancio delle infrastrutture di questo paese, di cui abbiamo bisogno. scuole, ospedali, università, le grandi vie. Lo sviluppo di questo paese è cambiato quando abbiamo fatto l'autostrada del sole, che ha reso, se vogliamo, la stessa alta velocità ha cambiato questo paese. Quindi forse è lì che dobbiamo investire, ma chiaramente come si fa a trarre questa ricchezza privata assolutamente diffidente nei nostri governanti? Lo si fa con un piano di incentivazione fiscale. Se tu metti i soldi, io te li scalo dalle tasse. Bisogna investire su questo. Io credo che forse, come dire, l'importanza di un evento si giudica dal futuro che è stato in grado di generare. L'importanza di questa crisi si leggerà per quanto saremo in grado di cambiare quella situazione che oggi ti troviamo, per cui faremo le semplificazioni che non ci sono, faremo la politica industriale che non abbiamo mai fatto, faremo il grande piano delle infrastrutture, finalmente detasseremo i giovani, che è un'altra mia idea da lungo tempo, perché a loro va dedicata gran parte della ricchezza. E credo che dobbiamo anche affrontare un altro grande tema, e qui vado forse controcorrente, perché i 100 miliardi di evasione fiscale oggi pesano particolarmente. Ce lo dobbiamo dire, perché in questo Paese non è vero che ha la sanità gratuita, ha la sanità pubblica, che è un'altra cosa, e la sanità che con i soldi dei contribuenti che pagano le tasse assiste anche gli evasori che vanno in ospedale, gratuitamente. Quindi di questo ce lo dobbiamo ricordare, ma ce lo dobbiamo ricordare creando una coscienza di Paese che non abbiamo mai avuto. Il nostro capitale sociale è la coscienza del cittadino che paga le tasse, non perché c'è qualcuno che glielo impone, ma perché lo ritiene giusto. Queste tasse devono essere ragionevoli alla loro entità, devono essere facili da pagare, il sistema deve essere semplice, qualcuno deve capire che i soldi servono per investire quello di cui c'è bisogno anche in momenti di emergenza come questi. Quindi forse questa può anche diventare la grande occasione per rilanciare un piano di sviluppo di questo Paese, se non lo facciamo questa volta. Guardate, noi abbiamo lo stesso PIL dell'anno 2000, più o meno, avremo quest'anno, e avremo un debito che nell'anno 2000 era del 100% e diventerà del 150% a fine di quest'anno, più o meno così, le previsioni sono queste. Quindi abbiamo buttato via 20 anni, vogliamo buttarne altri 20 di quelli che seguiranno? Io credo che veramente debba esserci la scelta di fondo. Poi l'Europa, adesso l'Europa è quello che... Siciliotti, fermati un secondo, perché sull'Europa facciamo un capitolo finale, anche in funzione di quella bagarre sul mess che si sono palleggiati la responsabilità, si fa, non si fa, si firma, non si firma, si attiva, non si attiva. Però volevo sentire Sallusti su questo tema, questo della ricchezza privata e sulle parole che proprio Siciliotti ha detto, è ripetuto più volte in questa trasmissione, cioè di provare ad utilizzare questa risorsa che è un patrimonio di imprese, come diceva Platerotti, che sono in salute, non sono indebitate più di tanti altri paesi che stanno meglio di noi per altri versi, sono imprese solide che sanno lavorare, sono imprenditori, individui che poi mantengono in banca la loro ricchezza per lo più. C'è un qualcosa da poter fare su questo aspetto, su questo tema? No, ma sono parole molto sagge, purtroppo sono molto impopolari. Chiunque sostenga questa tesi, non credo che abbia dei grandi successi di vendita se è un giornalista o di voti se è un politico, perché il discorso che fa l'Olanda e la Germania non è un discorso onestamente così pellegrino, perché dice, scusatemi, voi avete la ricchezza privata maggiore d'Europa e avete il debito pubblico maggiore d'Europa. Quindi, per semplificare e banalizzare, siete come uno che ha tre Ferrari nel garage e che non paga il conto del salumiere, perché dice che non ha soldi. Uno dice, ma vendi una Ferrari e paga il conto del salumiere. Non è difficile da capire. Quindi, c'è assolutamente del vero, c'è assolutamente, e purtroppo lo dico, c'è assolutamente del vero di questo. Ci vorrebbe coraggio a dirlo Urbi e Torbi in tutte le sedi. Dopodiché, qual è l'unica giustificazione che ha il signore che ha le tre Ferrari e che non paga il conto del salumiere? È che io penso che la maggior parte degli italiani, io per primo, che non sono nessuno ovviamente, mettiamo volentieri un chip per salvare questo paese. Però in cambio vogliamo qualcosa. E che non c'è nulla in cambio. Cioè, dice, facciamo la patrimoniale. Beh, in momenti di guerra sempre si fanno le patrimoniali. Hanno tanti nomi, ma si fanno, perché il paese ha bisogno. Però in cambio, in cambio, tu mi fai la riforma fiscale, mi fai la riforma della burocrazia, mi fai, mi fai, mi fai. E allora vedrai che la maggior parte degli italiani non solo la pagano perché è costretti, ma la pagherebbero anche volentieri. Perché il problema non è che mancano i soldi. Qui il problema è che la gente ha troppe rotture di palle. Che è detta così, capisco che è un po' semplificativo, un femmismo. Allora, facciamo uno scambio con lo Stato. Io ti aiuto e tu mi aiuti. Invece in questo momento, se non ho capito male, lo Stato dice tu mi devi aiutare e io non tiro niente in cambio. E beh, allora no, ma non perché è giusto o sbagliato, perché non funziona così. Non può funzionare così. Quindi bisogna recuperare un rapporto di fiducia tra Stato e cittadini. Allora, riguardo l'Europa. Allora, vi faccio ascoltare un attimo le parole di Walter Rizzetto e di Fratelli d'Italia e Deborah Serracchiani del Partito Democratico sulla questione del MES. E poi vado da Platerotti perché so che ha tante cose da dire su questo e non solo sul MES, su tutto quello che è successo all'Eurogruppo e tutte queste ipotesi di soldi che devono arrivare o non arrivano, come devono arrivare al nostro Paese e agli altri Paesi che compongono l'Unione Europea. Rizzetto e Serracchiani e poi torniamo con i nostri ospiti. Rizzetto, questo bazooka del governo è giusto definirlo tale oppure piuttosto è una pistola che spara a salve? È una pistola che evidentemente spara a salve. Voi tutti avrete notato e capito quello che sta accadendo in questi giorni, quando fondamentalmente abbiamo un governo che va a dire dappertutto che andrà, ad esempio, a firmare il meccanismo europeo, il nuovo meccanismo, il rinnovato meccanismo europeo di stabilità, il famigerato MES, ma applica tutte le sue risorse per andare di fatto a fare una trattativa, ma sarà probabilmente, anzi senza probabilmente al netto del fatto che le opposizioni l'hanno messo a dura prova, voglio dire, questo trattato fortunatamente negli ultimi giorni, sarà una trattativa sicuramente per il nostro Paese a ribasso e sarà una trattativa soprattutto a debito. Mi spiego, quando noi andiamo a parlare, ad esempio, qualcuno tra i vostri telespettatori e voi avrete sentito parlare del cosiddetto SUAR, cioè di quello che fondamentalmente la comunità europea mette a disposizione per quanto riguarda il sostegno del reddito di lavoratrici, lavoratori disoccupati, si parla di 100 miliardi. Vi do soltanto un dato, si parla di fino a 100 miliardi in prestito rispetto alla comunità europea, rispetto alla Banca Centrale, che poco esiste, secondo me, in questi mesi, in questi anni, ma il massimo utilizzo complessivo annuo di queste risorse sarà, e c'è scritto nell'eventuale trattato, soltanto del 10% delle risorse mobilizzabili dal fondo, garantendo chiaramente poche centinaia di milioni di euro, in questo caso con enormi garanzie irrevocabili, si è scritto da parte dello Stato italiano. Si parla di garanzie per qualche centinaia di milioni, addirittura 3 o 4 miliardi. Ora, attenzione, e chiudo questo ragionamento, quando uno va a fare debito serve che ci sia qualcuno che investa dall'altra parte e che ti permette di farti prestare fondamentalmente i soldi. Non abbiamo parlato e non si parla ancora sufficientemente delle garanzie che lo Stato italiano dovrà andare a prestare e non si tratta ancora di un tema fondamentale che è quello della percentuale delle risorse che noi metteremo in campo per le cosiddette garanzie, cioè degli interessi fondamentali rispetto a questo passaggio. Quindi è un fondamento che di questa Europa non si piace. Se l'Europa deve essere questo, ecco, io ne farei volentieri a meno. Il MES è stato sottoscritto dall'Italia nel 2012. Quel MES però oggi non serve, non serve perché serviva soltanto per salvare uno Stato e quindi quello di cui oggi parliamo, se cambiamo nome probabilmente anche meglio, è uno strumento diverso che si abbina ad altri strumenti come ad esempio l'intervento della Bay per 200 miliardi e gli interventi che si stanno cercando di fare sul tema degli euro bond piuttosto che su una sorta di mutualizzazione del debito. Questa forma di MES che in qualche modo è sul tavolo è completamente diversa da quella del 2018, non ha condizionalità e serve per sostenere tutti gli Stati che sono in questo momento in difficoltà, non uno Stato soltanto. E se per l'Italia significa riuscire ad avere, diciamo così, assolutamente senza le condizioni che erano previste originariamente 35-40 miliardi, beh insomma io francamente prima di dire di no ci penso le due volte. Allora questo è il parere di due parlamentari di partiti ovviamente di posizioni opposte, Fratelli d'Italia all'opposizione con Valterizzetto e mentre Partito Democratico con Seracchiani che sostiene il governo. Quello che mi sorprende però Platerotti, prima di andare nel merito di quello che è successo è che chi adesso in qualche modo ha dovuto avere a che fare con una trattativa di questo tipo dice vabbè il MES lo hanno fatto il 2012, perché? Perché vogliono ribaltare la responsabilità di questo meccanismo su un'altra forza politica, ricordiamo che l'aveva firmato all'epoca il governo Berlusconi, c'era anche di mezzo proprio la Meloni di Fratelli d'Italia, invece chi adesso ci ha dovuto avere a che fare dice sì, questo MES non è uguale a quello, insomma si stanno rimbalzando questa responsabilità per probabilmente agli occhi degli italiani dire se qualcosa si farà, è un qualcosa di diverso oppure non è colpa nostra se nel 2012 era un MES, adesso è un altro. Insomma il solito politichese all'italiana. Al di là di questo nel merito di quello che è successo all'Eurogruppo ci puoi spiegare a che cosa stiamo andando incontro, realmente cosa è successo rispetto al MES? Allora, che cosa stiamo andando incontro lo sa solo il Magotelma credo perché questo non dipende sicuramente da noi, quello che posso dire è questo, è stata impostata male tutta l'operazione di richiesta d'aiuto perché abbiamo confuso il principio d'aiuto come stava dicendo giustamente poi credo i fratelli d'Italia col debito, cioè l'aiuto non è debito, è una cosa diversa. Allora, e abbiamo confuso soprattutto le carte, nel senso che la questione sanitaria è un problema ed è un problema verticale, gli altri sono tutti orizzontali, si incrociano l'economia, si fermano le imprese, le banche. Allora, e poi c'è quello del debito pubblico, allora io adesso ho 2.300 miliardi, si stima che potrei arrivare con questa emergenza fino a 3.000 miliardi, avere un rapporto debito PIL del 160% nel giro di un paio d'anni. Muoio. Allora, che mi diano l'aiuto meno così non ci posso arrivare, perché quando usciremo dall'emergenza i signori vorranno ritornare a delle politiche più normali, come mi è intuitivo. Ecco, se loro tornano alle politiche normali con me che sono in quelle condizioni, io rimuoio. Allora, che cosa si doveva fare? Uno, la questione del fondo per i sanitari, giusta, e la negozia di nucleo. La questione del fondo per la ristrutturazione aziendale e la disoccupazione, dovrebbe essere una priorità, l'hanno rinviata, quindi altro flop, io lo chiamo, però finalmente si è posta sul tavolo. Anche se il bilancio europeo non può sopportare un fondo per la disoccupazione che garantisca tutti, siamo all'1,3% del bilancio comunitario, quindi insomma pensate che fa il bilancio europeo. Terzo, qui il problema nostro non è di raccogliere soldi, noi i soldi li raccogliamo, questa è la stupidità. Noi abbiamo bisogno di non pagare gli interessi, perché altrimenti affondiamo noi su quelli. Allora, che cosa si poteva fare? Nel mondo della finanza certe cose si conoscono. Io vado dalla BCE, che ha circa il 20% dei miei BTP in questo momento, perché poi il resto ce ne sono 450 in Europa, fra la Germania e la Francia, soprattutto in Francia, BNP e Agricol, e poi stanno nelle banche. Allora, se io ho già quel 20% che è la BCE, l'assurdo, stiamo pagando gli interessi. Noi paghiamo gli interessi alla BCE, che facciamo parte dell'eurosistema. Loro dicono no, perché se non ti faccio pagare gli interessi è aiuto di Stato? Bugia, perché nel momento stesso in cui tu compri il BTP a 10 anni o a scadenze superiori, stai già dando un aiuto di Stato. Tant'è vero che hai cambiato lo statuto della BCE. Allora, non c'è alibi. Noi dovevamo andare lì e bloccare immediatamente e chiederlo. Ce li hai in mano tu? Io chiedo il congelamento degli interessi, e parliamo di miliardi qua, perché pensate 2.300 miliardi di debito che abbiamo. Perché? Perché uno sono la parte di Stato? Due, te li dirò. A fine emergenza, fra 5 anni discutiamo. Ma non solo. Poiché tu sei alleato mio, non mi mandi in default se non ti pago gli interessi, perché io continuo ad onorare il debito nei confronti dei privati. Era l'ABC questo. Cicilotti ha capito che cosa dico. È molto chiaro, no? Io pago il mercato e non vado in default. Se l'ABC non mi dichiara il default, non ci vado. E perché dovrebbe farlo? Allora, bastava porre la questione in questi termini, li avremmo incastrati. Perché non si tratta di fare l'obolo e non si tratta di condividere il debito, ma semplicemente di non pagare le cedole sul 20% dei BTP fin che non esco dalla merma. Allora, questa era un'idea. Loro sovrano, ripartiamo pure là. Abbiamo giocato, purtroppo, sull'oro sovrano nei tempi sbagliati e con il governo sbagliato. Perché se non ce l'hanno dato è solo per chi governava. La questione c'era Draghi, la ricordatevelo. Non era giuridicamente, la questione è ancora aperta. Allora, vai adesso lì e gli dici non mi aiutate? Devo fare da solo? Ridatemi l'oro. Lì diventa un fatto etico, non più un finanziario. È mio l'oro, è del mio popolo. Che ci faccio con quei 200 miliardi? Ma ragazzi, l'oro sta a 2.000 dollari l'oncia, in questo momento sono circa 200 miliardi, li prendo a garanzia di un'emissione obbligazionaria. La fanno le banche normalmente. Allora, faccio un'emissione garantita dall'oro che prevede, come tutti questi contratti, che non ti do l'oro alla fine del contratto, ma ti do i soldi. L'oro, resta a vivo. Resta a vivo. Ecco. È tutto verissimo questo, da sottoscrivere. Però è un problema di credibilità. Cioè, per fare i patti, i patti si fanno tra persone credibili. Allora, io non voglio offendere nessuno, per carità, non è questa la sede nel momento. Però io penso che un ministro degli esteri come Di Maio, un presidente del Consiglio come Conte, che fino a un anno e mezzo fa faceva l'avvocato, mi ricordo più in quale campo, e un ministro delle finanze, che è un burocrate di Bruxelles, non abbiano la credibilità, l'autorevolezza. Quando si dice, dateci draghi, non è perché pensiamo che draghi, ma perché per fare un patto del genere ci vuole persone autorevoli e credibili. Il problema del nostro governo è che già l'Italia nel suo complesso, non con tutti i torti, so che è impopolare, ma non con tutti i torti, è poco credibile. Ma c'è l'aggiunta di una classe dirigente assolutamente poco credibile. Avremo bisogno, io non capisco perché nel 2011, in un momento di difficoltà molto meno drammatico di questo, come poi si è rivelato, e un presidente della Repubblica ha deposto dal mattino alla sera, un governo regolarmente eletto da quello di Berlusconi ha messo su Monti. Io non capisco perché in questo momento il presidente Mattarella non dica, senta caro amico Draghi, lei è anche bravissima persona, nessuno mette in dubbio. Si faccia da parte, perché questo è il momento che abbiamo bisogno di una persona credibile, autorevole, e quindi affidiamo un governo tecnico, tanto ne abbiamo dieci anni che abbiamo governi non eletti, uno in più, uno in meno, non penso che cambi la situazione, o il rischio della democrazia. Dal mattino alla sera via Conte arriva Draghi con una squadra attrezzata per essere autorevole e credibile per fare esattamente quello che hai detto tu adesso. e secondo me con una squadra del genere ce lo farebbero fare. Allora servirebbe quindi Draghi per combattere i serpenti che ci sono in Europa e anche in Italia probabilmente che... Io su questo forse sono più di destra, più sovranista, io sono molto preoccupato di questa cosa qua e lo dico sinceramente, perché 2011, salta Berlusconi e diciamo golpe della Merkel e di Draghi, poi arriva Monti e quindi Letta non eletto, Renzi non eletto, Gentiloni non eletto, Conte non eletto uno, Conte non eletto due. Allora quanto vogliamo abituare? Sono d'accordo, per quello che dico, siccome un eletto in grado di fare questa operazione non è all'orizzonte, io non è che lo trovo che sia una roba meravigliosa, ma dico uno in più nemmeno, tanto vale provare uno in più. Nel merito tu hai ragione da vendere su Draghi, però io sono solo preoccupato perché ci stiamo abituando, prima ce li impongono e poi andiamo all'acclamazione, oddio democrazia, tutto qua. Volevo chiudere con Claudio Siciliotti su un argomento che non si tocca quasi mai, ma che secondo me è giusto affrontare, cioè in questo momento di crisi c'è anche chi sta guadagnando più di prima, ci sono settori che stanno guadagnando più di prima, ma al di là di questo, poi non è neanche colpa loro, sono aziende che producono, che svolgono servizi essenziali, ma secondo te Siciliotti si può provare a chiedere qualcosina anche a questi settori a fronte di altri che sono agonizzanti? Ma io faccio due esempi da questo punto di vista, credo che la domanda sia assolutamente pertinente. Il petrolio è calato del 59% dal 20 di febbraio e il prezzo della benzina alla pompa del 5%. Ora noi sappiamo tutti che il prezzo della benzina è per due terzi imposte, il resto è mercato, però questo è incomprensibile e non può essere così, quindi vuol dire che anche in una situazione del genere c'è chi ci guadagna sopra. Altro esempio, lo dicevo prima ad Alessandro, prima della trasmissione, dovendo stare in casa ho comprato una retina per il canestro da basket, una palla da basket e una pompa per gonfiare il pallone su Amazon e mi è arrivato tutto in due giorni. Cioè questa famosa web tax la vogliamo fare o no? Perché questo è un tema esplosivo. Non direi che andiamo a scannare il pizzaiolo di prima che è chiuso da due mesi e Amazon adesso probabilmente, siccome è una legge di mercato, se aumenta la domanda sale anche il prezzo. Se sei l'unico adatti le retine e la pompa per il coso perché non c'è da nessuna parte, ieri costava 10 euro, oggi costa 12 la pompa. Perché è così? Allora forse in questo momento dobbiamo porci anche questo problema perché c'è qualcuno, la grande maggioranza che tira la cinghia e c'è qualcuno anche che la allarga questa cinghia e questo non è assolutamente comprensibile. Il tema della web tax, dei giganti del web, l'abbiamo trattato più volte. Una volta in trasmissione un politico friulano mi ha detto ma tu non hai idea quanti soldi hanno queste persone e ho capito, spero che questi soldi non servano per corrompere te perché allora di che cosa discutiamo? E questo è un problema che secondo me bisogna porre con assoluta evidenza. Allora io vado a salutare il direttore Sallusti, gli chiedo un'ultimissima considerazione su tutto questo che abbiamo detto. Da domani riparte questa fase 2 seppur con dei distingui in alcune regioni, ecco poi questo è un altro problema che andrebbe affrontato, regione che fa in un modo, regione che fa in un altro. Forse davvero sarebbe il caso di rompere gli schemi e decidere che il paese riparte con chi è in grado di ripartire a prescindere se fabbrica i tappi di plastica come tu ci mostravi prima oppure se fa un'attività più vicina a quelle che sono le esigenze degli italiani in questo momento. Io mi auguro di sì ma ne dubito perché noi siamo un paese statalista, lo Stato vuole decidere tutto e quindi mi immagino che la fase 2 sarà più incasinata e inefficiente della fase 1, il che non è una bella prospettiva, me ne rendo conto. Però è così, siamo un paese statalista e io mi chiedo perché Milano ha dei problemi che sono diversi da quelli che ha Torino, che sono diversi da quelli che ha Udine, che sono diversi da quelli che ha Palermo e quindi che ognuno dovrebbe uscire dall'emergenza o iniziare a uscire dall'emergenza in base al tipo di problemi che ha, non in base a delle regole dettate in maniera teorica dallo Stato. Sono molto pessimista però in questo senso. Grazie direttore, leggeremo domani il giornale e scopriremo quale sarà l'argomento principale ma potrei tirare a indovinare. Emergenza coronavirus, riapertura delle aziende, fase 2, i temi sono quelli. Grazie. Alessandro, dimmi. Per chiedere una cosa a lui che era interessante è questa. Non se ne parla mai perché c'è vergogna di discutere, ma secondo me è sbagliato. Zaia aveva proposto tempo fa una cosa che è caduta nel vuoto, poi ho cominciato a guardare in giro nel resto del mondo per vedere da dove venisse fuori e l'ho trovato venendo dall'Inghilterra. Io credo che la questione del certificato di immunità sia molto importante. Non se ne vuole parlare perché sembra di fare i cittadini serie A o di B. Cioè chi guarisce dal virus, e sono tanti quelli guariti, a Vigliaia, dategli un certificato di immunità perché non la può riprendere, non lo può attaccare. Allora per rimettere in moto l'economia la prima cosa che devi fare è far vedere che se stiamo bene usciamo, non promettermi le date. E io credo che quello del certificato di immunità che si sta discutendo in queste ore in iglie a Londra, ve lo dico in Parlamento, stanno valutando come introdurlo. Ma è sacrosanto, non è una discriminazione fra chi si è ammalato e chi no. È la possibilità di far ripartire le fabbriche, gli uffici, senza paura di... Nell'occhio è quella sicurezza. Ma anche quegli aspetti legali di cui parlavamo. Allora io ringrazio anche Alessandro Plateroti, vado a salutare e ringraziare Claudio Siciliotti, ci ritroveremo senz'altro anche con voi due per continuare ad approfondire questi temi. Ringrazio voi che ci avete seguito e vi do appuntamento alla prossima settimana con gli speciali del Tg in questa formula, quella che si occupa di argomenti di carattere generale relativi a questa emergenza coronavirus, mentre mercoledì e venerdì affronteremo come sempre le problematiche inerenti settori più particolari della nostra economia. Mercoledì sarà la volta del turismo, lo faremo qui con il direttore di Promoturismo FWG, Gomiero, che si collegherà non da qui ma in collegamento via Skype per affrontare questa tematica, mercoledì alle 21, mentre venerdì parleremo del settore delle auto, un mercato dell'automobile che dopo questa crisi rischia di sprofondare in una crisi molto molto profonda. Ne parleremo mercoledì e venerdì, per quanto riguarda invece questi speciali ci rivedremo lunedì come sempre dopo il Tonight. Arrivederci e buona serata.